A mano che vai indietro, per aiutare le mie sorelle che ti regga la schiena ad appoggiarti, che se è più morbida nel movimento. Ma io ho un cavalletto. No, ma noi ce ne abbiamo un cavallettino, ma non lo regge. E' un cavalletto alla macchina, so di piedi, si deve cantare in schiena. Perché ho visto che se lo fai senza cavalletto, per aiutare, oltre, per aiutare. No, ma infatti per aiutare, ci siamo per questo cavalletto. E' quello di Balla me che ho comprato, se ne guardate, non era Balla me. Beh, può che essere così da 40 minuti, no, 80 minuti e 25 minuti. Lui ha anche fatto bene. Ha fatto... E' un po' più grande, è un po' più grande, e poi mi rischia di lavorare di sole. Poi che non la faccia dei dirigenti, aspetta, eh, vado, vado, vado. Ecco, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.